Ora invece inizieremo a fare degli esercizi di tecnica simulando uno smarcamento di un avversario colpendo la palla in drop, ovvero in contropanso, con l'interno del piede, destro e sinistro. Secondo esercizio, faremo una variante, quindi colpiremo la palla sempre in drop col colo del piede. Terzo esercizio, alterneremo la prima variante alla seconda variante, quindi colpiremo la palla in interno in drop a destra e sinistro e di collo in drop a destra e sinistro.